Sentenza TAR, Confindustria Siracusa, Diego Bivona, un piano dell'aria lesivo per le aziende. L'odierna sentenza del TAR, che accoglie tutte le motivazioni delle aziende ricorrenti avverso al piano regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia, conferma quante affrettate e ingiustificate, ma soprattutto lesive, fossero alcune prescrizioni impartite alle aziende stesse. Da mesi invochiamo un franco confronto con i tecnici dell'assessorato all'ambiente, con l'obiettivo comune di apportare dei correttivi al piano, affinché le misure derivanti dal piano stesso fossero realmente efficaci per la salute della popolazione e tenessero conto della sostenibilità economica dei costi relativi. Oggi, nel ribadire che è importante e imprescindibile che la Regione si doti di un piano di tutela della qualità dell'aria, che sia rispettosa di tutte le norme comunitarie e nazionali in vigore, nonché dell'ordinamento giuridico, auspichiamo che presto si possa avviare un tavolo tecnico che prenda in esame quanto rilevato nella sentenza del TAR. Le aziende interessate si impegnano nel contempo a proseguire i propri progetti di miglioramento e adeguamento previsti nelle AIA.